Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare, presentare, vi voglio portare perché non ho bisogno di presentazioni un gioco del genere, vi voglio presentare Bang, il gioco di Dadi, e poi l'espansione che è uscita Undead or Alive, che a dire la verità la stavo aspettando da tantissimo tempo, anche perché io sono fan e fanatico di Bang. Riniziando un pochino da capo, dalla mia storia, quando l'ho conosciuto, non mi ricordo se vinse il premio come miglior gioco a Lucca Comics 2010-2009, ora non vorrei dire una cavolata, comunque tanto anche sul sito stesso della DvGiochi lo troverete, lo comprai subito perché da amante del West vidi questo gioco che aveva vinto un premio così, insomma, come riconoscimento del miglior gioco dell'uscita a Lucca Comics e dissi lo voglio provare. Si comprò con degli amici al tempo e me ne sono veramente innamorato e ci è piaciuto da morire. Intanto, prima di tutto, ringrazio la DvGiochi, che mi ha fornito l'espansione Undead or Alive, che inserisce zombie, non morti, che poi nell'West ci stanno anche bene, come avete visto in Red Dead Redemption, e la versione con i dadi, perché io la versione con i dadi non ce l'avevo ancora. Quindi, DvGiochi, grazie davvero di cuore per averci offerto queste copie per la recensione, grazie ragazzi, è un onore collaborare con voi e spero, insomma, che la cosa sarà duratura. Faccio due piccole premesse. Uno, ragazzi, scusate se vedete un pochino di scatole in giro, però ci sono arrivati un po' di giochi, e in casa, anzi in casa, nel soppalco, non abbiamo più spazio. Quindi, chiunque di voi ci volesse regalare una casa, o offrirci una casa di almeno 100 metri quadri in affitto, gratis, ovviamente, sarà ben recompensato. Posso rispondere una cosa, una fetta di ciappetta? Questa ce la lascio, lo sai, no? Come si dice a Livorno, una fetta di ciappetta con i pinoli. Poi, altra cosa, per farvi vedere che sono fanatico di Bang, ho comprato il pallottolone, e questo non mi ricordo nemmeno quando è uscito, ma l'ho comprato prima di venire a abitare a Livorno, quindi almeno 8-9 anni fa, e questo è il pallottolone di Bang, però questa che vi faccio vedere oggi è la versione con i dadi. Questa invece è quella senza dadi, la prima che crearono gioco, con tutte quante le espansioni, e in più, non contento, al tempo comprai anche Bang The Walking Dead. Uno, perché sono fan di The Walking Dead, fan di Kirkman, quindi del The Walking Dead e dei fumetti, perché quello della serie televisiva li do a voto 2 su 10, a parte Negan, e comprai anche la versione di Bang The Walking Dead, che è molto, molto, molto carina, e ci sta da paura, perché inserisce le meccaniche di sotterfugio di Bang nella lotta contro gli zombie. Quindi è veramente una figata, se vi capita questo di The Walking Dead, prendetelo assolutamente. Comunque oggi parliamo di questi unboxing, confezione del gioco, veramente bellina, della DV Giochi, e con questa specie qui di fuorileggio, comunque brigante qui davanti, è un gioco da 3 a 8 giocatori, l'età è bassa, 8-10 anni in su. L'unico, forse l'unica cosa, l'unica puntina negativa, anche perché poi una partita Bang, ragazzi, nel gioco normale ti prende circa una ventina di minuti, mezz'ora. Nel gioco con i dadi è molto più veloce, perché non devi aspettare che ti escono le carte giuste, dura tipo 15-20 minuti al massimo. Però è un gioco da 3 a 8 giocatori, quindi comunque serve un, e anche con 3 giocatori soltanto, rispetto a 4 o 5, ha delle regole particolari semplificate. Quindi comunque Bang è un gioco che richiede un po' di persone, ecco, forse l'unica nota negativa è quella lì. Comunque apriamo. Bellissimi, tra l'altro, anche i disegni, mi sono sempre piaciuti da morire, proprio per quello che l'ho comprato al tempo. Regolamento, fronte, e retro. Tra l'altro sul retro non c'è scritto niente delle regole, praticamente ci sono tutti quanti i personaggi presenti nelle carte da gioco con le varie abilità, nient'altro. Quindi, tiè, eccoci qua tutto il regolamento. Il librettino della DV Giochi, con il catalogo con i loro migliori giochi. Ah, ragazzi, dimenticavo una cosa, Samurai Sword mi manca, questo qui mi manca, infatti lo voglio assolutamente, ed è un Bang ambientato al tempo dei Samurai, quindi un'altra figata disumana. Tutti i token che ci sono nel gioco, che sono le pallottole, per segnare i punti ferita, come nella versione con le carte, e le frecce degli indiani, per vedere quando verremo attaccati dagli indiani. Carte dei personaggi, dadi di gioco, che sono 5, ciascun personaggio tira questi, e ora vi faccio vedere un pochino come funziona. All'inizio del gioco, tutti i giocatori, ripeto che Bang va da 3 a 8 giocatori. Consiglio spensierato, giocatelo almeno a un 4 o 5, anche perché se no segue delle regole particolari in 3, non è tanto bello come gioco, vi dico la verità, cioè non gira tanto bene. Da 4 in su, iniziate a vedere il vero e proprio Bang. Comunque, facciamo conto a una partita, vi faccio l'esempio, a 4 giocatori, sceglierete 4 personaggi, ora li prendo un po' casualmente, e ne darete uno per ogni giocatore, quell'altro ovviamente andranno tutti rimessi nella scatola del gioco. Girate le carte dei personaggi che sono uscite, guardate quali sono, ovviamente poi li disponete per i giocatori. Ora ve le faccio vedere qui nelle vicinanze, in un tavolo ristretto, però ovviamente vi dovrete dividere ai vari angoli del tavolo. Prendete questi personaggi, tra l'altro ragazzi, i disegni bellissimi, e hanno voluto ispirarsi ai reali personaggi storici, invece che Billy the Kid, Willie the Kid, che tra l'altro era il mio preferito, oppure anche Jesse Jones, invece di Jesse James, e il gringo, tipo Tuco, no vabbè comunque, ho già la pelle d'oca ragazzi, ve lo giuro, ve l'ho sempre detto, di tutti i giochi di carta è il mio preferito. Comunque facciamo conto che, dividiamo questi personaggi, facciamo conto che questi siano i 4 angoli del tavolo, ok? Poi date una carta repelogativa, così uno saprà sempre che cosa c'è scritto, poi importante alla fine per ciascun giocatore, date le carte ruolo. Le carte ruolo sono dettate da quanti giocatori sono in campo, che ne so, se ci sono 8 giocatori, magari c'è lo sceriffo e ci sono 2 vice, vedete perché le carte di vice, insieme allo sceriffo, sono 2. Quindi nel caso di una partita 8, ci saranno 2 vice. Noi facciamo conto che, prendiamo le regole per una partita 4. Nella partita 4 c'è uno sceriffo, quindi i vice non ci sono, 2 fuori legge, e un rinnegato. Questi ruoli qui li dovete dare coperti, ok? Quindi girati dall'altra parte, perché è un gioco di sotterfuge a carte coperte. L'unico in gioco che si deve rivelare all'inizio è lo sceriffo, però lo sceriffo, vedete, facciamo conto che lo sceriffo fosse Willy the Kid, ok? Vedete che Willy the Kid ha 8 punti ferita che sono segnati qua su, quindi voi all'inizio gli andrete a dare i punti ferita che ha, e poi a scalarli. Consiglio spensierato, visto che non sono tantissimi, fatta la rovescia. Ogni volta che subite un punto ferita, le mettete un segnale accanto. Comunque lo sceriffo ha sempre più 2 punti ferita, anche perché è l'unico rivelato, quindi tutti quanti proveranno ad ucciderlo. Quindi facciamo conto che Willy the Kid è lo sceriffo, e la carta sua è rivelata. Le altre carte vanno coperte e date al resto dei giocatori. Il regolamento vuole che lo sceriffo deve essere l'ultima a rimanere in gioco e deve sconfiggere tutti quanti, sia i fuori legge che il rinnegato. Nel caso che nel gioco ci fosse anche il vice sceriffo, il vice sceriffo gioca nascosto, quindi anche lui con la carta girata non si rivela. Il ruolo del vice sceriffo è quello di difendere, ovviamente, lo sceriffo. Poi, il ruolo dei fuori legge è uccidere lo sceriffo, il ruolo del rinnegato è quello di rimanere l'ultimo giocatore in campo. Quindi, se i fuori legge ammazzano lo sceriffo, lo sceriffo perde la partita, il vice perde la partita e il rinnegato perde la partita, perché i fuori legge hanno ucciso lo sceriffo. Quindi, il rinnegato nella prima parte del gioco sarà una specie di vice, perché dovrà stare attento che lo sceriffo non venga ucciso. Perché se lo sceriffo viene ucciso, e in gioco ci sono anche, vi faccio l'esempio, i fuori legge non ci sono più, però in gioco ci sono ancora, ci sono due rinnegati e lo sceriffo, e uno dei due rinnegati ammazza lo sceriffo, la partita è persa, perché il rinnegato deve restare l'ultimo in gioco, quindi deve arrivare a fare l'ultima sfida all'okcorra. L'unico modo che ha il rinnegato per vincere la partita è quella di trovarsi da solo, alla fine, contro lo sceriffo ed ucciderlo. Quindi l'unico modo che ha il rinnegato per vincere la partita è trovarsi a fare un duello da solo. Se i rinnegati sono due, il rinnegato non solo dovrà coprire le spalle lo sceriffo, ma dovrà uccidere i fuori legge e l'altro rinnegato. Quindi vedete che è un gioco insomma, e poi sono a carte coperte, quindi è un gioco abbastanza articolato, perché da come si muovono gli altri giocatori dovrai capire insomma chi è cosa. Facciamo conto, come vi ho detto, che questo è il fuori legge, questo è un rinnegato, poi ciascun personaggio ha un'abilità, che ora non vi vado a descrivere, però prendendole una a caso, tollo sceriffo Willie the Kid, ti bastano due colpito per fare l'effetto Gatling Gun, che ora vi spiego come funziona. Nella vecchia versione di Bang, ognuno c'eva a mano tot carte, a seconda dei punti ferita che aveva. Scalando i punti ferita, scalavano le carte che potevate avere in mano. Giravate le carte e guardavate l'effetto, tipo ne so, lanciavo un Bang a lui, e quell'altro mi tirava un mancato, e quindi scartava il mio Bang. Le regole sono essenzialmente le stesse, però praticamente ciascun giocatore tira 5 dadi, all'inizio della propria partita. Vi ho fatto vedere che, a parte i segnalini dei punti ferita, ci sono anche le frecce degli indiani, che anche questo è un cumulo che viene messo a parte. Quindi, partendo dallo sceriffo, che è sempre il primo, e andando in senso orario, il gioco è sempre in senso orario, quindi magari andando così, lo sceriffo muoverà per primo, il giocatore alla sua destra muoverà per secondo, e così via. Ciascun giocatore va a tirare 5 dadi. Tira i dadi, vediamo ad esempio cosa esce. In questo caso sono usciti, andato malissimo, due candelotti, come vedete qui, un 1, un 2, e questo simbolino qui vuol dire una Gatling, un effetto Gatling. Ora, i dadi possono essere ritirati fino a due volte, in qualsiasi combinazione vogliate. L'unica regola è che le bombe, i candelotti, a parte c'è un personaggio che lo può fare con abilità speciale, ma tutti gli altri, il 99%, non li può ritirare, quindi questi ormai te li tieni. Poi, un 1, vi faccio la descrizione, un 1 vuol dire che potete sparare, fare una ferita, a un giocatore, a uno di distanza. Quindi vuol dire uno di distanza dallo sceriffo, contando lato sinistro e lato destro. Quindi il giocatore alla mia sinistra è questo, li posso sparare. Il giocatore alla mia destra è questo, li posso sparare, però a questo non li posso sparare perché a distanza due, vedete, 1 e 2. 1 e 2. Quindi per colpire questa a distanza due, dovrei usare quest'altro che mi dice due, ok, puoi sparare sia a uno che a due. Nel caso io sparassi a questo giocatore qua giù, faccio un esempio, il rinnegato, gli metto un punto ferita. E fin qui è molto più veloce dell'altra versione, perché la versione con le carte dovevate vedere mancato, non mancato e c'erano anche altre tante possibilità, il barile e cose varie. Gli ho sparato, gli ho fatto un punto ferita. La bomba non si può ritirare, quindi potrei voler dire, sai che c'è? Di questi tre dadi che sono venuti, voglio ritirarli tutti e tre. Prendo e li ritiro, ora vi faccio vedere soltanto un esempio, però potrei dire, ok, mi tengo le due birre e ritiro questo. Quindi potete ritirare una qualsiasi combinazione di dadi due volte soltanto. Cosa vuol dire? Ritiro un solo dado, ok, poi ne ritiro due. Oppure potete ritirarli tutti due volte, con l'unica regola che le bombe non si possano tirare. Se escono tre dadi bomba, il vostro personaggio subisce automaticamente un punto ferita, perché praticamente ha tirato un candelotto e gli ha esploso in mano. Quindi automaticamente prende una ferita. Se esce una birra, il vostro personaggio o qualsiasi altro personaggio può essere curato, quindi io posso dire questo punto ferita me lo curo bevendo la birra al saloon, oppure, secondo me, questo qua giù è rinnegato, non lo so io, perché le carte sono coperte, è rinnegato, che dovrebbe salvarmi la vita dai fuori legge, sta per morire, vi do una birra. Quindi le birre le potete usare, sia per voi che per gli altri giocatori. stessa regola, la Gatling, se vi escono tre dadi, dove sono? Se vi escono tre dadi col simbolo Gatling, vuol dire che potete fare un colpo a tutti, ma non a distanza uno, a tutti quelli che sono in gioco. Quindi se vi esce tre simbolini Gatling, voi automaticamente farete una ferita a tutti i giocatori. Non potete scegliere, a lui sì, a lui no, a lui sì, no, no, la Gatling ferisce tutti. Quindi nel caso anche il vostro vice sceriffo, anche il vostro, la Gatling è un colpo assolutamente per tutti, però potrebbe servire nel momento buono per fare fuori un po' di giocatori. L'ultima regola è la freccia, che quando sul dado esce una freccia, quel dado lo potete ritirare, l'unico dado che non potete ritirare è la bomba, la freccia la potete ritirare, però anche se l'andate a ritirare voi comunque vi prenderete una freccia e la mettete accanto al personaggio, non succede niente. Quando dal mucchio delle frecce, che sono queste qua giù, quando tutte quante le frecce sono finite, che ne so, questo scena 2, questo scena 3, quello scena 3, questo scena 2, questo scena 1, quando viene pescata l'ultima freccia e messa, quando viene pescata l'ultima freccia per affidarla a un personaggio, gli indiani attaccano e quando gli indiani attaccano per ciascuna freccia che ha un personaggio subisce un punto ferita, quindi questo scarta le sue tre le rimette nel mucchio, tre punti ferita, questo scarta la sua e ne mette uno. Ragazzi, fine del gioco. Il regolamento di Bang è tutto qui con il regolamento che vi dice che il fuori legge devono ammazzare lo sceriffo, lo sceriffo deve uccidere tutti, quindi anche il rinnegato, il vice sceriffo deve proteggere lo sceriffo e il rinnegato deve essere l'ultimo in campo a fare un duello 1 contro 1 contro lo sceriffo, quindi anche, come vi ho detto prima, se ci sono 2 rinnegati alla fine e oppure rinnegato e vice sceriffo, i fuori legge sono morti e lo sceriffo muore, il vice ha perso la partita, è rinnegato uguale, deve essere l'ultimo, lo deve ammazzare lui, proprio detto papele papele, deve essere lui davanti a uccidere lo sceriffo, sennò perde la partita. Ragazzi, Bang è tutto qui. Espansione di Undead or Alive che ricordo che per essere giocato ha bisogno anche del Bang Dice Game, quindi comunque ha bisogno del gioco base e questa è un'espansione. Apriamo, all'interno c'è il piccolo regolamento con le aggiunte, nuovi personaggi, in questo ci sono anche le carte da gioco, e per concludere i due nuovi dadi introdotti dall'espansione. Il gioco, come detto, inserisce nuovi personaggi che sono questi qua giù che poi ve ne faccio vedere alcuni e sono molto belli e caratteristici perché poi alla fine hanno delle abilità nuove. Ah, questa espansione potete combinarla con tutte le altre, l'unica cosa è che per la variante Dice Game questa espansione non funziona col gioco base di Bang, quello senza senza dadi che poi sono belli tutte e due ve lo dirò nella valutazione finale. Comunque, questi sono i personaggi, poi ci sono, vengono inseriti i token duello che sono questi qui con le pistole sopra e dovete farci, li dovete mescolare e farci un mucchietto dove tutti i giocatori possono raggiungerli e poi ci sono le 18 carte rabbia che sono queste qua giù che poi vi vado a spiegare e le 11 carte Camposanto o Cemitero. I due dadi nuovi del gioco vanno quando giocate con questa espansione quindi nel gioco base no, i dadi devono essere sempre 5, questi sono quelli del gioco base sono bianchi, questi due neri li dovete andare a sostituire a due dadi quindi togliete due dadi semplicemente li mettete via e d'ora in avanti quando giocherete con questi due dadi avrete dei risultati nuovi che poi vi faccio vedere che sono prevalentemente la bottiglia di whisky che la bottiglia di whisky a differenza della birra la birra ti dice cura te stesso o un qualsiasi altro giocatore e il whisky dice cura soltanto te stesso oppure il risultato del duello che il duello quando esce questo dado qui vi fa iniziare un combattimento con un altro giocatore voi praticamente questo dado nero lo passate al vostro avversario ah, il duello può essere usato a qualsiasi distanza quindi potete fare un duello a distanza o una a distanza a due insomma il duello lo potete lanciare a tutti i giocatori sul tavolo quindi ah, ricordo una cosa gittata massima è due quindi tutti gli altri giocatori a parte quello alla vostra sinistra alla vostra destra che sono a uno tutti gli altri giocatori contano massimo a due a differenza del gioco base che potevano essere anche a cinque comunque tirate fuori il duello e lo passate il giocatore A lo passa al giocatore B il giocatore B prende questo dado lo ritira e se gli riesce un simbolo duello anche a lui lo ripassa all'altro giocatore al giocatore A il giocatore A lo ritira e se gli riesce un duello lo ripassa al B il primo invece che lo tira e gli esce qualsiasi altro risultato che non sia appunto quello del duello prende automaticamente un punto ferita perché ha perso il duello quindi un punto ferita se lo prende nel caso i duelli fossero due prenderebbe due punti ferita nel caso li mancasse tutti e due e in più va a pescare un token di questi qua giù del duello quindi la ferita se la becca e se la scala e in più va a pescare uno di questi token che ha un effetto particolare questo qui ad esempio la birra con una X vuol dire che annulla una birra usata per curarsi quindi automaticamente viene scartata viene annullata e quel giocatore lì riprende la ferita come vi ho detto ci sono anche le carte rabbia che sono queste qui anche queste vanno pescate e vanno messe in un mazzettino a parte insieme a quelle camposanto le carte dovete pescare sempre una carta rabbia per ciascun turno in cui avete perso due punti ferita o più quindi un giocatore pescherà una carta rabbia la terrà coperta davanti a sé per poi rivelarla nel turno successivo quando ritoccherà lui nel suo turno tirerà fuori la carta rabbia la rivelerà in questo caso vedete che c'è il simbolo di una gatling i simboli che ci sono semplicemente vanno aggiunti ai dadi che tirerete quindi tirando fuori questa carta rabbia qui questo è un è un è un'aggiunta a una possibile gatling quindi io nel caso volessi tirare una gatling mi basteranno due dadi gatling perché la terza me lo dà questo potrebbero uscire anche ad esempio risultati compositi questo mi vorrebbe dire che mi dà tutti quanti i simboli mi dà sia un candelotto che quello me lo tengo però mi dà anche un duello e mi dà gratis in più ovviamente a quello che andrò a tirare più un colpo a distanza 2 quindi la rabbia alla fin fine sono dei vantaggi che allungano un po' il gioco mettiamola così perché un giocatore che subisce due o più ferite nello stesso turno insomma sa via verso la morte anche le carte camposanto che sono queste rosse vanno mescolate e messe in un mazzetto a parte quando un giocatore muore si segue sempre le stesse regole del gioco di bang di base viene rimosso dal gioco quindi non conta più però nel giro del turno conterà sempre che quando si arriverà appunto a giocare alla sua mano lui non ha più carte non ha più a nulla è un giocatore morto scarta anche tutto quello che va in mano però quando toccherà a lui prende la prima carta del camposanto la gira e la rivela e si guarda il simbolo che c'è sotto in quel caso lì vuol dire che è successo qualcosa ma ci sono anche simboli tipo questo qui che vuol dire che non è successo nulla nessun morto si è risvegliato se quando viene rivelata questa carta ok del camposanto ah che vi ricordo che tutti i giocatori morti vanno a girare quindi se sono 3 più giocatori morti saranno in campo più carte verranno girate quando girerà il turno in senso orario se viene rivelata una carta con delle mani zombie con un valore di 1 o di 2 se il numero è superiore al numero di giocatori che sono attualmente in gioco ci sarà un'epidemia zombie la carta ovviamente ragazzi si applica al giocatore successivo quindi se ci sono 5 giocatori il secondo la rivela perché è morto e ci sono più il numero è più alto dei giocatori attualmente vivi si parte subito dal terzo e quindi non è dal turno dopo finiti tutti i turni di giocatori ma è dal giocatore direttamente successivo quando viene rivelata una di queste carte e inizia l'epidemia la scartate e levate dal gioco tutte le carte del mazzo camposanto quindi le toglierete tutte quante queste vanno via dal gioco in caso di Bellstar che è lei il giocatore torna in vita con tutti i suoi punti ferita in versione zombie ovviamente con tutti quanti i suoi punti ferita e questo è il capo zombie gli altri giocatori al solito morti riprendono le loro carte in mano e prenderanno però un ammontare di punti ferita quanti sono i giocatori attuali in gioco quindi se i giocatori in gioco sono due sono tre prenderanno due o tre punti ferita a ciascun giocatore che torna come zombie dateli sempre una carta riassuntiva che vi spiega che cosa fa praticamente uno zombie tira soltanto tre dadi base quindi non tira più i cinque che i due sono quelli nuovi dell'avventura ma ne tira soltanto tre base ragazzi quindi tira i tre dadi bianchi non può più tirare quelli neri dell'espansione quindi non può più fare nel duello e non può ne più bere il whisky quelli neri lui non ce l'ha più userà soltanto i tre dadi bianchi se o una carta rabbia o un simbolo sul dado li facesse uscire delle ferite lui non le prenderà più una volta iniziata l'epidemia chi viene abbattuto è automaticamente fuori dal gioco quindi se lo zombie viene abbattuto è fuori dal gioco se un giocatore che non è uno zombie viene abbattuto anche lui è fuori dal gioco e non essendoci più il campo santo non può tornare in vita quindi vi ricordo il campo santo è da utilizzare soltanto quando il primo alla prima epidemia parte a quel punto lo scartate e lo levate questo ragazzi è Bang la versione Dice Game e questa è la sua espansione Undead or Alive ora proprio detto sinceramente come quando al tempo io questo non c'entra niente con quest'artic e questa è la versione di base si gioca con le carte e non ci sono dadi e ora vi dico poi cosa ne penso però è contro se vi devo dare un consiglio che voi scegliate la versione con le carte o tanto lo trovate a Po magari a Trentero lo comprate o questa versione qui comprate tutte le espansioni perché il gioco base di Bang è bellino però è troppo veloce veramente in un quarto d'ora finisce e ha poche regole come avete visto l'espansione Undead or Alive mette il campo santo in più i giocatori morti perché quando morite nel gioco base siete fuori dovete attendere che quegli altri finiscano la partita invece in questa versione qui con gli zombie che beh poi gli zombie nel west dai ci stanno perfetti ovviamente perfettissimi in questa è bellina perché magari sei morto perché hai giocato male però il gioco ti dà una seconda possibilità di tornare in gioco di anche provare a vincerla o comunque andare a fare danni perché continuerai ad attaccare lo sheriff e cose varie sì è vero che tiri meno dadi quando torni come zombie però comunque non sei rimosso dal gioco perché forse la parte brutta di Bang era quella lì che nella versione con le carte c'era una carta particolare dell'espansione che ti faceva tornare in vita per un turno soltanto per un giro però fa po' e poi la devi pescare quella carta evento ora questa versione rispetto a quella originale però è contro intanto vi dico subito che io Bang lo adoro è un gioco di carte che mi piace non è di collezionabile ovviamente e gli do sia alla versione base che a questa gli do un 10 su 10 perché il mio gioco di carte preferito in assoluto l'ho comprato il primo anno che è uscito a Lucca e presi il gioco di base poi negli anni dopo presi proprio l'anno dopo la pallottolona perché volevo tutte le espansioni io Bang lo adoro voglio provare anche la versione Samurai ed è secondo me il gioco di carte più veloce lo potete portare io l'ho portato a mezza gente uno che gli garba al calcio a parte che il calcio non c'ha niente nella vita c'ha solo quello lì quindi segue solo il calcio e gioca solo a FIFA e l'ho portata a casa di gente che non gliene frega un cavolo anzi ci pigliano come nerd per i giochi da tavolo sono riuscito a far giocare anche loro quindi è un gioco che lo può mettere come Dixit lo può portare anche dalla tua nonna e ci giocate tranquillamente poi questa versione rispetto all'altra ha dei pro e dei contro il pro che il gioco è molto più veloce ragazzi che non c'è da tenermi la carta in mano girare Bang mancato Bang mancato tira per il barile vediamo se ti esce il simbolo del cuore che c'è sul barile Bang base è più una partita a poker ok però era più lento questo è più veloce se esce un colpito t'ho colpito se escono tre gatling t'ho colpito eh ma c'è la carta mancata qui no qui i colpi sono diretti e ti vengono addosso però dall'altro lato nella versione di base con le carte c'erano le armi da fuoco e qui non ci sono un po' mancano perché era bello vedere che ne so il Remington spara a distanza 1 oppure vi ricordate c'era tipo quella pistola come si chiamava la Vulcan che sparava 1 però poteva tirare tanti Bang oppure c'era il fucile da cecchino che tirava a distanza 5 quindi potevi colpire tutti i giocatori al tavolo qui non ci sono anche perché il giocatore al lato a sinistra e col lato a destra sono a distanza 1 quelli successivi intorno al tavolo sono massimo a distanza 2 non è più come prima che uno poteva essere anche a distanza 3 lontanissimo o 4 e quindi queste cioè ovviamente il dado ha tolto alcune carte però ha inserito delle regole è una versione di Bang non mi sento di dire cioè velocizzata ma differente quindi è un'ante esperienza di gioco direttamente però il fulcro e il zucco è sempre lo stesso ovvero quello che ognuno ha un ruolo il fuorilegge deve ammazzare lo sceriffo il vice deve difendere lo sceriffo lo sceriffo deve ammazzare tutti il rinnegato deve essere l'unico che ammazza lo sceriffo ma rimanendo per ultimo perché se il rinnegato all'inizio della partita ammazza lo sceriffo ha perso perché hanno vinto fuorilegge il rinnegato deve essere l'ultimo in tutto il gioco uno contro uno con la balla di fieno che passa sparare allo sceriffo e ucciderlo quindi è un gioco preciso che ognuno deve fare per bene quello è il suo ruolo e la versione undead or alive quindi 10 su 10 ma complessivo ragazzi prendetele tutte e due perché con le carte zombie con le carte camposanto allunga di tanto il brodo ed è veramente un gioco che merita da morire io ringrazio di cuore la dv giochi per averci offerto queste copie per la recensione grazie ragazzi veramente è un onore collaborare con voi e siete sempre stati professionali e ogni volta che vi ho contattato mi avete sempre risposto entro massimo 24 ore quindi grazie veramente di cuore ho apprezzato da morire e ragazzi in descrizione trovate i link per dove acquistarli tanto sono giochi comunque dal costo basso ma fatti veramente da paura e poi disegni sulle carte chi l'ha fatti è un grande perché ci stanno veramente da paura proprio molto in stile western per quanto molto fumettoso e poi tutti quanti i link dei nostri social io spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere qualcosa nei commenti ciao ragazzi alla prossima